Sette lavoratori socialmente utili per il Comune di Arezzo, un nuovo bando comunale per l'assunzione di lavoratori da ricercare fra quelli che percepiscono trattamento straordinario di integrazione salariale, indennità di mobilità o altro trattamento di sostegno e reddito compresa la cassa integrazione in deroga. L'amministrazione comunale contribuirà per una quota aggiuntiva al contributo che già prendono da parte dello Stato e li impiegherà per qualche ora in più rispetto a quelle che vengono già pagate dal Governo centrale. Questo qui consentirà innanzitutto a queste persone di poter lavorare, di potersi rendere utili, di prendere qualche soldo in più e di inserirsi anche in un contesto lavorativo e quindi diciamo di un'operazione anche sociale se vogliamo. Il bando è uscito ieri mercoledì 23 novembre, rimarrà fuori fino al 5 di dicembre, dopodiché ci saranno dei tempi tecnici per la selezione e in alcuni casi forse anche per la formazione, diciamo che al massimo entro i primi di gennaio dovrebbero essere tutti operativi. Operativi dove? Cosa andranno a fare? Andranno a fare manutenzione prevalentemente quindi saranno impiegati in tutte quelle opere di manutenzione dei parchi, delle strade, nelle scuole, negli immobili comunali così come è avvenuto da un anno a questa parte e devo dire che questo progetto ha riscosso veramente tanto tanto interesse sia da parte delle persone che partecipano sia da parte di chi ha potuto apprezzare il lavoro che fanno tutti questi nuovi assunti tra virgolette che hanno dato una marcia in più e nuovi stimoli anche agli operai che abbiamo di già. Grazie a tutti.